ciao a tutti oggi parleremo del verde allora mi sono accorta negli anni che il verde è uno dei colori più distrattati da principianti per lo più e però anche da quelli un pochino più esperti perché perché è facile fare un colore miscelare un colore diciamo inopportuno partendo appunto dai verdi offerti in commercio generalmente sono troppo saturi troppo forti e non sono a volte per niente naturali allora normalmente però nelle scatole specialmente le scatole da 12 vengono offerti due colori verdi che sono il verde ptalo e il verde vescica allora generalmente troviamo il verde ptalo però tonalità blu che sarebbe questo il pigmento sarebbe questo pg7 si chiama così non ci sbagliamo perché c'è anche il pg36 che sarebbe la versione giallastra di questo generalmente appunto mettono questo tonalità blu perché comunque rimane più versatile poi affiancato a questo mettono sempre il verde vescica cosiddetto ora lo chiamano verde linfa perché evidentemente verde vescica in effetti fa un po ridere allora il verde vescica cos'è è un verde già pronto praticamente cioè è un verde che deriva dalla miscelazione di altri colori come adesso vi farò vedere quindi da questo subito subito traiamo una conclusione cioè che a casa in studio a meno che non si vogliono fare cose particolari per cui servono dei verdi particolari il verde vescica per lo più è inutile perché perché lo possiamo formare semplicemente partendo da questo mischiato con praticamente tutti gli altri colori della tavolozza quindi il verde vescica è un verde già pronto quindi come tale è comodo cosiddetto colore di convenienza e ha un senso utilizzarlo per esempio quando si va a dipingere fuori perché perché dipingendo fuori a volte è comodo non stare tanto lì a miscelare a cercare cose cose strane quindi è lì ci si mette il pennello e si usa poi spesso dipingendo fuori non si hanno grandi spazi di miscelazione per cui anche quello aiuta viceversa a casa si può lavorare un po di più su questo discorso quindi adesso vi faccio vedere subito allora tanto per cominciare questa è una tavolozza ridotta all'osso sono le classiche da 12 io l'ho modificata perché qui in origine c'era un altro colore l'ocra non c'era ce l'ho messo io vabbè comunque allora generalmente i verdi sono tre e sono il giallo limone il giallo di cadmio medio che comunque è un giallo molto caldo e l'ocra gialla ecco qua allora avendo a disposizione già avendo a disposizione questi e un paio di blu si possono fare dei verdi eccellenti senza per forza dover utilizzare questo ed è quello che faccio molto spesso perché per esempio miscelando tutti questi gialli con un blu già per esempio col blu oltremare si può vedere che un attimo che li facciamo un pochino mischiare vengono già fuori dei verdi interessanti e soprattutto piuttosto naturali perché poi in pittura c'è un quadro non è un catalogo di colori no è semplicemente per lo più si cerca di rendere quello che vediamo quindi nel caso per esempio io faccio molti paesaggi e difficile che trovi un verde così è per non dire quasi impossibile l'unica volta penso che ho utilizzato questo colore a dritto come si può dire è stato un paio di anni fa quando ho fatto il mare dell'isola del giglio visto dall'alto per cui sì ci ho messo un bel po di questo addolcito con un pochino di blu però ecco normalmente insomma allora ora qualcuno si chiederà spero che se lo chieda vabbè ma allora perché ci tieni questo ora ve lo dico allora quindi abbiamo detto i colori miscelatori sono il giallo e il blu per lo più quindi si ottengono questi verdi molto naturali ora vabbè lo potrei fare potrei fare la stessa cosa col blu ceruleo però non serve perché ora vado avanti comunque vengono sempre altri tre verdi abbastanza naturali quindi perché questo perché questo è un colore molto scuro è uno dei colori più scuri sulla tavolozza che abbiamo a disposizione proprio per sua peculiarità quindi se io voglio un verde molto carico molto forte molto anche molto scuro sarà difficile che mi venga fuori da una miscela di questi e poi c'è anche il discorso della saturazione quindi chiaramente mischiando questi otterrò una saturazione medio bassa invece partendo da questo chiaramente otterrò il massimo quindi perché un colore veramente forte ecco quindi è un colore estremamente potente e per questo motivo va usato con molta cautela tra parentesi è un colore un colorante organico per cui il pigmento è molto fine e tende ad entrare molto nella carta per cui una volta messo è difficile anche togliere quindi va utilizzato con un po di accortezza ecco però detto questo è un colore assolutamente prezioso nella tavolozza perché partendo da questo veramente il verde si può utilizzare con qualsiasi poi si può si può mischiare con qualsiasi altro colore e viene sempre un colore molto interessante e molto utile ecco già è un colore molto più caldo rispetto a questo se poi vado con l'ocra addirittura allora lo schiarisco un po vedete come prende subito il sopravvento nelle miscele per quanto io stia attenta a metterne poco l'ocra gialla è un valido competitore perché anche anche lei tende a a prendere un po il sopravvento per cui guardate un po alla fine allora tanti verde vescica sono fatti proprio in questo modo cioè col pg7 e l'ocra gialla quindi alla fine risulta un doppione no per cui io generalmente lo elimino sempre dalle tavolozze casalinghe posso fare tranquillamente con questo e libero il posto per un altro colore poi un colore così forte lo posso utilizzare anche come antagonista per fare degli scuri degli scuri molto interessanti tra l'altro vabbè questo è solo un po dal discorso del verde però comunque anche il verde ha un suo complementare per cui è bene saperlo il suo complementare è questo si ottiene un'ampia gamma di grigi molto interessanti e utilizzando pochissima acqua si arriva addirittura al nero a seconda di quale prevale si ottiene un colore molto scuro questo per esempio come tinta ricorda il verde cobalto per dire no il verde cobalto scuro ecco quindi poi tornando al discorso di prima volendo ottenere un verde molto scuro che è quasi impossibile da ottenere in questo modo invece con questo ho la vita molto più semplice perché non faccio altro che mischiare una terra oh mio dio mi sono dimenticata di bagnarlo la terra d'ombra bruciata mi pare che sia della hot ma questa è agghiacciante da sciogliere allora ecco questo è uno dei miei colori favoriti quando faccio alberi cipressi alberi lontani eccetera anche in primo piano basta che siano scuri questo è un colore piuttosto scuro e lo posso ottenere in virtù di questo perché altrimenti è dura garantito se a questa miscela ci aggiungo un pochino di blu oltremare ottengo un colore similmente scuro però di un'altra tonalità quindi mentre questo è più sul versante caldo questo è un po più freddo quindi detto questo che vi devo dire ah sì un'altra cosa che volevo dire è che i verdi vescica non sono tutti uguali ma la loro tinta dipende moltissimo dal giallo con cui sono fatti quindi per esempio questo verde vescica qui che è della van gogh è un po meglio di questo è è più bello è più squillante è più saturo perché perché è stato fatto con un giallo che non è né questo né questo ma è il giallo giallo azzo si chiama e praticamente è un colore giallo piuttosto dorato lo vi faccio vedere allora a corpo sembra un marrone ricorda un po' la vecchia aureolina solo che l'aureolina era un colore un po' pericoloso perché tende a diventare marrone col tempo questo invece no questo è fantastico praticamente è una specie di sole in tubetto potete vedere che è un giallo incredibilmente forte e solare chiaramente un giallo di questo tipo mischiato anche solamente col blu mi darà dei verdi un po' più forti rispetto a questi quindi un'altra cosa da considerare eventualmente è rivedere i gialli che abbiamo in tavolozza quindi potrai al limite pensare di sostituire uno di questi due con questo o al limite tenerli tutti perché no non è detto che non lo farò per esempio nella tavolozza del 24 questo ce l'ho perché mi fa dei verdi fantastici per esempio mischiati con l'indaco poi non parliamo se lo mischiamo con questo veramente è un putiferio di verde proprio assolutamente saturo vedete è proprio quasi un pugno nell'occhio quindi anche qui molta attenzione molta accortezza ecco ricordiamoci sempre che quando si ha a che fare con i verdi generalmente dobbiamo fare cose naturali prati, alberi eccetera siepi che non sono così quindi bisogna cercare un attimino di addomesticare questo colore un altro modo appunto sempre sul discorso di addomesticare il verde consiste nel mischiarci un colore complementare o una terra quindi per esempio come ho fatto qui del resto se io prendo questo anche mischiato col giallo e poi ci mischio su un pochino di terra rossa ecco vedete anche qui ottengo un colore piuttosto naturale un colore che può essere di un pino per esempio ci posso anche mischiare questo per vedere l'effetto che fa per esempio questo esercizio qui andrebbe fatto fatto una bella tabella con tutti i vostri colori e cercare di vedere laddove possono arrivare i colori che avete nella tavolozza guardate che bello ecco d'accordo quindi col verde allora questo vale un po' per tutti i colori però specialmente col verde proprio per quel discorso che è facile esagerare è sempre meglio fare un po' di allenamento prima di fare un dipinto vero e proprio e quindi mettersi lì e fare tutta una serie di tabelline di scarabocchi per esempio anche nei miei video precedenti potete trovare degli esercizi su questo discorso per vedere un pochino le miscele che si possono fare d'accordo e niente qui ora tocca a voi mettetevi sotto buon lavoro divertitevi perché io mi diverto molto a dipingere però mi diverto moltissimo anche a fare questo tipo di cose per me non è mai tempo perso perché comunque è allenamento anche questo e quindi si impara un po' a lavorare con la nostra cassetta degli attrezzi ah dimenticavo oh ora mi sento meglio adesso qui ora gli do una sciacquata e ci metterò un colore che mi piace di più bene spero che vi sia piaciuto e niente ormai questi video mi danno una certa dipendenza spero che sia così anche per voi se è così ci vediamo giovedì prossimo va bene allora buon fine settimana ciao ciao